Allora ragazzi, buongiorno, purtroppo su TikTok stanno girando video come questi o per me lo direi, vi spiego meglio come ha detto il buon social boom questo soggetto qui è colui che era minorene all'epoca dei fatti ovvero questi qua che vedete qua, il famoso stupro di Palermo ormai diventato noto, ma diventato noto perché? perché questo profilo in realtà non è di quel soggetto lì, di quell'elemento lì che ha fatto quella cosa anche se c'è il suo nome e tutto, ma in realtà che vuole assolutamente fare hype, attirare odio non so adesso vedete qua, sto ricevendo uno di messaggi in DM ragazzi e ragazzi come faccio uscire con tutte le serie drop cioè cose, vedete, vedete come sono delle cose realmente ragazzi non è lui non è quello che è stato non è quel soggetto perché naturalmente quel soggetto rischia anni anni di carcere ma qualcuno che ha creato questo profilo per appunto fare visualizzazioni lucrarci su e poi buttare giù il profilo rivendere sull'altro come ha spiegato social boom quindi non è la persona dello stupro non date visibilità come appunto ha detto social boom a questa persona anzi io in diretta con voi come si fa segnalo questo profilo segnalo l'account mettiamo sta fingendo di essere qualcun altro no, non mettiamo questo quale c'è l'abilità vabbè facciamo così altro ecco non lo blocco perché io non uso tiktok per cui non mi interessa occhio ragazzi questo ragazzo si trova è scarcerato in questo momento ma dovrebbe finire in una comunità almeno questo è qui per poi aspettare il riesame e spero di cuore vada in galera grazie a tutti